ecco c'è Teresa questa è la villetta questa è una zona residenziale tutte le villette uguali gemelle il mare sta dietro l'angolo con la scogliera bassa poi a 160 metri c'è la spiaggia sabbiosa l'ingresso posto auto dentro c'è il barbecue doccia esterna giardino abbastanza ampio questo è un primo piano piano realizzato indipendente sono dieci scalini questo è questo balcone veranda e vista mare micidiale di qua puoi vedere la distanza del mare stiamo a 40 metri balcone abbiamo soggiorno grande molto ampio soggiorno salone ampio divano cucina tutta redata nuova abitabile indipendente con forno lavatrice frigo della si esce sul balcone nuovo poi abbiamo la prima camera da letto finestrata a c'è il clima centrale qui abbiamo primo bagno di servizio secondo bagno completo con doccia seconda camera da letto e la terza per gli ospiti camera da letto questo è quanto molto carina molto messa bene ciao teresa grazie ancora ciao grazie a tutti